Allora niente, praticamente eravamo qui in attesa della chiamata del 118 e abbiamo visto questo gruppo di ragazzi che discutevano animativamente. Dopo a un certo punto questi animi si sono un po' riscaldati e queste due persone si sono iniziati ad azzuffare fisicamente. Prima i calci e i pugni, poi una coltellata al volto. Una ragazza minore ha aggredito una sua coetanea in pieno centro ad Arezzo. L'aggressione si è consumata di domenica alle 17.30 in via dell'Anfiteatro a pochi passi dalla sede della Croce Bianca di Arezzo. Sono stati infatti gli operatori dell'associazione a cercare in un primo momento di dividere le due ragazze, poi accortosi che una delle due era stata ferita con un'arma da taglio, l'hanno soccorsa e hanno allertato le forze dell'ordine. All'inizio ci eravamo un po' riusciti a placare gli animi, dopodiché si sono riazzuffate l'altra volta e una di queste ha tirato fuori quest'arma da taglio colpendo al volto l'altra persona. Diciamo che il vostro intervento forse ha evitato il peggio. Sì, diciamo di sì, poteva andare molto peggio, perché alla fine questa persona poteva far male anche ad altre persone o per se stessa addirittura. Sul caso, indagano i carabinieri alla base dell'aggressione, ci sarebbe una lite per via di un ragazzo. La giovane che ha colpito al volto la sua coetanea è stata denunciata, la ferita invece è stata apportata al pronto soccorso di Arezzo, in codice giallo. Il taglio era profondo, abbastanza profondo, quindi c'era bisogno di qualche punto e grande, soprattutto.